Mi fa molto piacere che comunque sia un'azienda napoletana storica come la mia aver fatto la cravatta ufficiale del Giro d'Italia. Chiaramente la cravatta è una sette pieghe come nostra tradizione, interamente fatta a mano, dove ci sono sia l'etichetta che il logo ufficiale del Giro d'Italia. Diciamo che l'idea nasce in comunione con l'organizzazione del Giro d'Italia e c'è stata la volontà di fare un prodotto che sia la massima espressione di qualità e eleganza italiana nel mondo. Le aspettative sono tantissime, anche che già se ne parla tanto, tanti giornali, tante le televisioni che ne stanno parlando, in quanto è una cravatta raffinata, elegante ed esprime al meglio quello che è il gusto italiano nel mondo. Grazie